Con Marco Rondoni per parlare del futuro venerabile Giuseppe Lazzati. Allora, io partirei, Marco, con il raccontare ai nostri amici come avvenne che il professor Lazzati venne a Sansepolcro quel 15 marzo 1980. Tu eri al primo anno alla Cattolica come studente di Economia e Commercio. Fu un invito della cooperativa culturale Giorgio Lapira che gli chiese se era disponibile a presentare l'opera e il pensiero di Giorgio Lapira qui a Sansepolcro. Lazzati era stato uno dei quattro professorini insieme a Dossetti, Fanfani e Lapira. Di questo periodo, propriamente a casa tua, lui già dimostrò di essere una persona molto alla mano, non andando in un albergo a Sansepolcro ma ospitato da voi in casa. Ecco, quei momenti a casa vostra? Molto semplici, molto familiari, molto discorsivi, molto piacevoli anche. Era una persona veramente semplice, affabile e anche piacevole, un piacevolissimo conversatore. Ecco, parlando invece del Lazzati a tutto tondo, quindi il rettore, il politico, la persona impegnata nel sociale, l'uomo di cultura. Se lo ripenso adesso, ripenso questa grande capacità di comunicativa, grande capacità, grande passione culturale. Veniva fuori che era un uomo eccezionale, era una persona di una profondità, di una preparazione culturale al di sopra della media.